Allora dobbiamo rifarlo, dobbiamo cercare il punto più brutto perché secondo me si è abbassata, prima era più alta, cazzo, c'è una merda, c'è una merda, è meglio ce la, vai però, insomma. Sto ammontato l'arco, eh sì, eh lo so però, sticca guarda quella, vedo, però quando ti dico una cosa, non fare quella forza, sennò non facciamo un cazzo tutti e due. Eh vabbè, sticca, faccio qualche riempio, no, tanti, dai saltiamo giù, Siamo entrati là, ci abbiamo atto a bordo, aspetta, facciamo così. Eh ma dai, oh entra acqua. Pronto? guarda quant'acqua mettiamo questo di punta vai di punta ok bella bella ok va bene dritto vai qua a sinistra qua c'è il sasso a sinistra andiamo ad andare là eh qua dritta ma non dobbiamo ad entra